Un saluto sincero a tutti i liberi ricercatori e a tutte le libere ricercatrici che hanno compreso le enormi menzogne che si protraggono per incatenare le menti deboli dei seguaci della narrativa ufficiale. Ieri 9 ottobre ho pubblicato il video scienza tradizionale e falsa scienza eccetera eccetera, video al quale si accede attraverso l'indice alfabetico dal sito tinelli.eu e la domanda è questa, lo studio che segue è vero o è stato manomesso? In realtà è pubblicato sul National Library of Medicine, sul giornale Plus One, è pubblicato all'interno del libro dell'Organizzazione Cibo ed Agricoltura delle Nazioni Unite e in tanti altri siti, mentre in Italia, a parte qualche pagina di Facebook non se ne parla. Segue un sunto. Una valutazione parassitologica degli insetti commestibili e del loro ruolo nella trasmissione di malattie parassitari all'uomo e agli animali. Dal 1 gennaio 2018 è entrato in vigore il regolamento del Parlamento Europeo del Consiglio del 25 novembre 2015 che introduce il concetto di novel food, cibo nuovo, inclusi di insetti e le loro parti. Alcune specie di insetti comunemente utilizzate sono i vermi della farina e i vermi i grilli domestici, gli scarafaggi e le locuste migratrici. La questione insondabile è il ruolo degli insetti commestibili nella trasmissione di malattie parassitarie che possono causare perdite significative nella loro riproduzione e sono in grado di rappresentare una minaccia per l'uomo e per gli animali. Lo studio fatto era identificare e valutare le forme di sviluppo di parassiti che colonizzano insetti commestibili negli allevamenti domestici e nei negozi di animali nell'Europa centrale e determinare il potenziale rischio di infezioni parassitarie per l'uomo e per gli animali. Il materiale sperimentale comprendeva campioni di insetti vivi provenienti da 300 fattorie domestiche e negozi di animali, tra cui 75 allevamenti di vermi della farina, 75 allevamenti di grilli domestici, 75 allevamenti di scarafaggi similanti del Madagascar, in italiano Grompadorina portentosa e 75 allevamenti di locuste migratrici. I parassiti sono stati rilevati in 244 insetti pari all'81,33% su 300 insetti pari al 100% degli allevamenti di insetti esaminati. In 206, pari al 68,67% dei casi, i parassiti identificati erano patogeni solo per gli insetti. In 106 casi, il 35,33%, i parassiti erano potenzialmente parassiti per gli animali e in 91 casi, vale a dire per il 30,33%, i parassiti erano potenzialmente patogeni per l'uomo. Gli insetti commestibili sono un serbatoio sottovalutato di parassiti per gli esseri umani e per gli animali. L'esame parassitologico suggerisce che gli insetti commestibili possono essere il vettore parassitario più importante per gli animali insettiboli domestici. È necessario concentrarsi sulla necessità di un monitoraggio costante degli allevamenti di insetti studiati per i patogeni, aumentando così la sicurezza di alimenti e mangini. La crescente domanda di alimenti facilmente digeribili e nutrienti ha contribuito all'emergere di nuove fonti alimentari nella lavorazione agricola. Gli insetti commestibili sono una di queste categorie di alimenti sottoutilizzati con un alto valore nutritivo. Gli insetti vengono allevati per il consumo diretto e per l'uso nella produzione di alimenti e mangini. Gli insetti commestibili sono spesso infettati da agenti patogeni e parassiti che causano significative perditi di produzione. Questi agenti patogeni rappresentano una minaccia indiretta per l'uomo, per il bestiame e per gli animali esotici. La maggior parte delle imprese di allevamento di insetti nel mondo sono aziende domestiche e in Europa gli insetti commestibili sono raramente prodotti sulla larga scala. Nell'Unione Europea l'entomofagia, al regime dietetico che vede gli insetti come alimento, è rara ed è considerata un tabù culturale. Più di 1900 specie di insetti sono considerati commestibili. Il rischio di infezioni da cestoda a cantocefala e a caridae era significativamente più alto negli insetti importati dall'Africa e dall'Asia rispetto agli insetti acquistati da fornitori europei. Allevamento il cui stock è stato integrato con insetti provenienti da altri allevamenti sono stati più frequentemente colonizzati da diverse ditte che sono descritte nell'articolo ufficiale. Era maggiore negli insetti nutriti con scarti di cucina e fonti di mangimi raccolti localmente rispetto agli insetti alimentati solo con prodotti freschi o alimentazioni specializzate. Gli allevatori che desiderano allestire o ampliare le loro fattorie spesso ordinano insetti dai paesi di origine o da luoghi in cui l'importazione di tali alimenti è più conveniente rispetto all'Europa. Questo fenomeno rappresenta una grande minaccia per il fatto che potrebbe esserci il rischio di catturare animali dall'ambiente e quindi di introdurre nuovi parassiti sia patogene per gli insetti, per l'uomo e per gli animali. Alcuni allevatori dilettanti non sono interessati alla qualità del mangime introdotto nell'allevamento. Gli insetti commestibili possono avere anche un contatto diretto o indiretto con gli animali. Tra le pratiche possiamo includere la rideposizione degli insetti negli allevamenti dopo che l'animale non li ha mangiati. Questi insetti che si muovono nell'habitat animale, esempio nei terrari, possono introdurre meccanicamente potenziali patogeni specifici per gli animali stessi. Durante la ricerca nelle singole fattorie sono state osservate pratiche non etiche dei singoli allevatori come nutrire insetti con feci di animali da un negozio di animali, nutrire insetti con cadaveri di animali più piccoli o nutrire insetti con cibo ammuffito e persino carta cruda. Queste pratiche riducono significativamente la qualità del prodotto finale e minano la sicurezza microbiologica parassitaria di questi alimenti. Al momento non esistono normative in merito alle condizioni zoogeniche e al benessere di questi animali come potenziali animali per il cibo. L'allevamento di insetti commestibili effettuato in luoghi non destinati a questo scopo, case, può comportare un ulteriore pericolo per l'uomo. Nel corso dello studio sono stati registrati singoli casi di diffusione di insetti provenienti da allevamenti che hanno provocato un'infestazione di ambienti ad esempio da scarafaggi o grilli. Un altro esempio è la possibilità di trasmissione di parassiti pertanto se gli allevatori non sono ben protetti o c'è una mancanza di igiene a contatto con gli insetti possono verificarsi tali invasioni. L'articolo descrive in dettaglio tutti i parassiti patogeni per l'uomo e per gli animali e chiude suggerendo che dovrebbero procedere con ulteriori ricerche per concentrarsi anche sulla sicurezza microbiologica dell'allevamento di insetti commestibili. Quindi insetti sì o insetti no? A voi la scelta. Io non seguo né i soldi né la moda ma il mio cervello. Dino.